Allora a questo punto cosa fai? Fai 1 2 Però fai il national vero, quindi non fai il national finto Quindi fai veramente il national vero Lo fai così E allora qua però lo tronchi Quindi qua fai una roba a metà Quindi fai una roba Così Che ha troncata Ho sbagliato a girarmi Ho sbagliato a girarmi Non ho mona Non ho mona messa bene per poterlo fare Se no l'avrei già fatto Ma perché non aveva la burst? Perché sto sbarellando Sto sbarellando Ho mona a livello 20 No no le burst Sì sì l'ho usata al posto la skill Sì 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 Questa cosa che non hanno resettato Questa cosa è una cazzata Che non vogliono cambiare loro Perché non sono capaci a cambiarla Quella del cambiare Che se ci vorrebbe un cazzo Riparti con l'abis Vai già reset delle skill Già tirate all'ucido dai Non ha senso che io ogni volta Deba aspettare Con un counter interno Ma che cos'è? Il gioco della chicco Quella è una roba Che mi fa riderissimo Quella è proprio la roba Quella è proprio Il quality of life Di sto gioco Che non esiste Ciao purple Cioè non esiste Il quality of life Di sto gioco Da questo punto di vista Non sono in grado di farlo E mai lo saranno Quindi vabbè Lo sappiamo Prendiamone atto E buonanotte al cazzo L'ho preso? Spero di Sì dovrebbero L'ho preso No no ma infatti Ma infatti No no ma una cazzata Quella ragazzi Cioè Proprio scemi sono Ci vuole veramente niente Per far quella roba lì Vai 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 Ok, uno l'ho preso Boh, non lo so se ci riesco Vabbè, qua io ho fatto i danni Io ho fatto i danni giusti, va bene Ok Non lo so dove sono, non lo so quello che sto vedendo Non lo so quello che sto guardando E' qua che mi perdo i secondi io Io qua che perdo i secondi preziosi Ti perdo qua Uno è morto? Ok, let's go, let's go, let's go Adesso andiamo Adesso si vola E adesso è tutta in discesa E adesso guys E' tutta in discesa Sempre se io non scattolo al Kenki male Però vabbè Quello spero di no Parasput almeno una volta Bene Non ho la Burst Non ho la Burst di Raiden Oh, era la Burst di Raiden Io Dio Nel momento forse Vabbè Qualcosa riesco a farli Ah, è andato di là Uno Due Ok Riesco a farlo veloce questo Perché si sta spostando Veramente nei posti più brutti del mondo Nei posti più brutti del creato Però vabbè In qualche modo La roba su Come caccia è andato Kenki comunque Sbarazzino E' un Kenki sbarazzino Stasera ragazzi Incredibile Ah, io li separati Sono stato scemo Sono stato Sono stato stupidissimo io qua Sono stato pirla Gli ho separati come un idiota Non avrei dovuto Eccoli che mi hanno preso gli scudi Eccoli che mi hanno preso gli scudi Aveva ragione Ryu Aveva ragione Ryu Solo che Prima non gli avevo Non mi avevano mai preso gli scudi Solo che Prima non c'erano mai riusciti Solo che Prima non c'erano mai riusciti E adesso invece ci sono riusciti Quindi Scemo a me Ok Riesco? No Non riesco Eh qua non lo so ragazzi Se riusciamo Proviamo ma Se riesco a prenderli qua Forse Boh Sono indietro coi danni Tantissimo Sono tantissimo indietro coi danni Non è vero? Beh si Un po' Vabbè 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 Sì no no Gli scudi sono deboli Effettivamente Si può fare Si può fare Ora qua dipende anche qui Da un botto di roba Ecco qua Qua è andata malissimo Sta cosa qui Ok È andata in qualche modo È che non ho la burst Di Raiden Ok Ora Dove Da che parte mi spawnano Da qua Questi Sono pazzi Questi così qua Qua sono matti Da questi folli Sperando che non mi stia saltando Niente in testa Ok Ok Ferenoff Ora Ora Riusciamo Nonostante Tutto Riusciamo Nonostante Tutto Chi lo sa Forse si Forse Steve Dov'è? Ok Le teorite Dai Devo Ultare Per forza Ah Minchia Panico Ma Dio santo No Così no Vabbè Ho dovuto Ho dovuto Ultare per forza Non stava venendo giù Mi sono spaventato Ho detto Non viene giù E niente Ho detto Non viene giù Ho dovuto Ultare per forza All'ultimo Ero convinto Di riuscire A buttarlo giù Prima Mamma mia No Vabbè Non devo Sì Ok Devo colpire Le sfere verde Però Ero convinto Che con Vabbè Ci hai capito Che con Con la burst Di riuscirci Dove sei? Va bene Aspettiamo Il prossimo giro Vabbè dai Non è un problema Non è un problema Ok Ok Si può fare In one go Con fatica Ma si può fare In one go Però È stata dura È stata dura È stata dura Ci ho messo un po' Eh Ci ho messo un bel po' È stata Con fatica Ma si può fare Buon notte a chi va Si può fare In one go Però È la prima Stanza Quindi Giusto per Ricapitolare Io sono riuscito Gestendomela Facendo fatica Nella prima Stanza Come? Con Mettendo Quindi un rational Quindi un rational Quindi rational Nel primo Puro E nel secondo Mettendo Non completo Il team Il team Di Utao Avrei potuto Fare Così Ma avrei potuto Anche fare Con Secondo me Con Rosaria Avrei anche potuto Fare così Per aumentarmi Il critico Però ecco Così è più Difficile Forse Nella parte Dei due Herald Nei due Herald Forse Forse sarebbe Stato più Complicato Anche se Li congeli Però poi Con la fusion Li metti giù Di forse Mettere Lui Sarebbe È stato Più logico Sarebbe Sarebbe